E se sceglieste voi le storie da raccontare su Venezia? Magari il Magna e Bevi, la mia guida umana di dove spendere soldi per mangiare e bere a Venezia. Se vi dicessi che c'è un posto dove il dozzinale tra mezzino, tonno e cipolline diventa divino, ci credereste? Questa storia però non è votabile, altrimenti con i social uccidiamo anche questo posto. È una storia proibita, che solo chi acquista le figurine potrà ascoltare. Votate la vostra preferita tra tutte le altre e io la trasformerò in un video. Gratuito per tutti. Da oggi fino a domenica 10 settembre, acquistando le figurine di scoperta sul sito www.lviagediscoperta.it infatti avrete la possibilità di votare la vostra storia veneziana preferita. La più votata diventerà un video gratuito che sarà online la domenica successiva. E tutto a soli 3 euro e mezzo, il prezzo di uno sprizzo. Andate sul sito www.lviagediscoperta.it, votate e costruiamo insieme la prossima storia di Venezia. Grazie. Grazie.